Mi chiamo Tiziano Mantello, sono cofondatore di MT Distribuzione, un'azienda che commercializza prodotti elettronici, sicurezza, antitrosione, telecamere e sistemi domotici. Siamo a Verona, è una piccola realtà, però interessante. Per noi questo progetto ha significato dati, ordine e processi. Cosa abbiamo fatto? Siamo riusciti da una mole di dati enorme che avevamo a portarli al servizio dei commerciali, creando tutta una serie di processi e di allerte nei confronti anche del parco clienti che abbiamo. Il progetto ci ha fatto cambiare sicuramente il modo di lavorare, creando una chiarezza anche nei confronti dei nostri commerciali andando sul territorio di seguire il parco clienti, con delle mappe ben precise, con degli alert ben precisi. Per raccontare la nostra azienda, io oggi ho deciso di non portare un oggetto, ma di portare il nostro Digital Ambassador Riccardo, che vorrei che intervenisse anche lui, insomma, se è possibile. Ci ha dato una bella mano, ha fatto un bel controllo di dati, di tutto quello che abbiamo fatto e ci ha portato dei bei suggerimenti. Ci sono rimaste sorprese e gli abbiamo detto anche ai ragazzi che hanno organizzato questo progetto.